Buongiorno, ragazzi. Benvenuti al corso di moda. Per tutte le zucche, che sta succedendo? Ci aspetta un anno pieno di novità. Preparatevi a vivere la futura più bella. Venite con noi alla Regal Academy. Stanno per arrivare degli amici davvero speciali. Mi sento esattamente come te. Molto nervoso all'idea di parlarti. Voleremo verso terre povolose e impareremo a usare i nostri nuovi poteri. No, ma non vi preoccupate. Certe cose non cambieranno mai. È una povola più bella! Rose, sei appena tornata a scuola. Ma sembra che tu non sia mai andata via.